ciao ragazzi eccoci qua per un altro master set vi farò vedere un bellissimo tesoro dei draghi che è un set molto piccolo ma comunque secondo me vale assolutamente la pena di farlo anche se è abbastanza dispendioso a livello di soldi perché alcune sono un po introvabili il set parte da qua sono tutte olografiche sono tutte carte olografiche sono un totale di 20 carte più una fuori serie cioè 21 carte totali e ho voluto aggiungerci anche le stamped che non sono di tutte le carte ovviamente ma di alcune sì per esempio di latias c'è la stamped di latios c'è la stamped è un set che ho fatto in condizioni nermint è abbastanza difficile da fare perché appunto in condizioni nermint il mercato non ne offre tantissime abbiamo un altro rei quad doppio quindi normale e stamp ed axorus uguale normale e stamp ed e drudicon normale e stamp ed questa qua è la fuori serie del set il cure 21 di 20 e poi qua avevo messo un po di doppie che avevo preso in più così tanto per avercele bene amici anche questo piccolissimo breve ma bellissimo master set ve l'ho fatto vedere ci si vede al prossimo video ciao ragazzi ciao